Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aronegianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una deliziosa torta semifreddo con mousse al caffè e base di biscotti al caramello. Questa delizia è veramente semplicissima da preparare, poi è veramente gustosa e come tutti sanno il caffè ci dà sempre una bella carica di energia, poi è fresca e adatta all'estate. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa ricetta estiva ci serviranno 150 ml di caffè Illy fatto con la mocha, 150 ml di latte fresco, 2 tuorri d'uovo, 80 g di zucchero di canna, 25 g di amido di mais e 4 g di colla di pesce. Per avere ricette favolose ragazzi dovete sempre usare ingredienti di qualità. Per prima cosa prendiamo la nostra colla di pesce e la mettiamo in ammollo in acqua fredda. Per prima cosa prendiamo un pentolino e ci versiamo il caffè e il latte. E li lasciamo lì finché non sfereranno il bollore. Nel frattempo prendiamo una ciotolina e ci mettiamo dentro il nostro zucchero di canna, i tuorli, aiutandoci con una palettina li togliamo per bene dalla ciotolina e con un frustino mescoliamo tutto per bene. A questo punto possiamo aggiungere l'amido di mais e mescoliamo per bene con il nostro frustino finché non si incorpora per bene al tutto. Quando il nostro latte ha sfierato il bollore lo aggiungiamo poco alla volta al nostro composto, mescoliamo per bene e aggiungiamo la seconda parte quando la prima si sarà già ben assorbita e continuiamo così finché non finiamo tutti i nostri liquidi. Sempre poco alla volta. Quando avremo finito di aggiungere tutti i liquidi al nostro composto lo ritrasferiamo dentro il nostro pentolino poi aiutandoci con il nostro frustino mescoliamo per bene il tutto per circa 2-3 minuti. Quando vedrete che la crema ha questa consistenza la cuocete per altri 2 minuti a fuoco basso sempre mescolando continuamente. Passati 2 minuti di cottura spegniamo il fuoco strizziamo un pochino la nostra colla di pesce ce l'aggiungiamo al composto e mescoliamo per bene finché non si scioglie. A questo punto spostiamo il nostro pentolino dal fuoco e lo possiamo coprire con la pellicola alimentare trasparente a contatto perché altrimenti farà la crosticina e lo lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Mentre la nostra crema si sta raffreddando vediamo insieme gli ingredienti per la base del nostro semifreddo ossia 250 grammi di biscotti lotus al caramello e 60 grammi di burro fuso. per prima cosa prendiamo i nostri biscotti lotus al caramello li mettiamo in un mixer e li tritiamo per bene finché non raggiungeranno la consistenza della sabbia a questo punto possiamo aggiungere il nostro burro e mescoliamo per bene il tutto finché non diventa un composto omogeneo a questo punto abbiamo preso una teglia di circonferenza di 18 centimetri alla quale abbiamo messo sul fondo della carta da forno attaccata con un po' di burro mentre sui lati abbiamo messo dell'acetato da cucina ora prendiamo il nostro composto e ce lo trasferiamo tutto sul fondo sempre aiutandoci con la nostra cara palettina ora mettiamo il tutto mezz'ora in frigo e per la mousse al caffè ci serviranno la crema al caffè che abbiamo fatto in precedenza e 400 ml di panna fresca già zuccherata trasferiamo tutta la nostra panna in una ciotola bella capiente poi aiutandoci con le fruste elettriche la montiamo per bene giunti a questo punto prendiamo la nostra crema al caffè ne mettiamo poco alla volta la aggiungiamo alla nostra panna e aiutandoci con le nostre fruste elettriche continuiamo a mescolare il tutto per bene continuiamo così finché non finiamo tutta la nostra crema ed ecco qui ragazzi la consistenza che deve avere la nostra mousse adesso finalmente possiamo prendere la nostra teglia con la base di biscotti al caramello ci trasferiamo la nostra mousse al caffè sempre aiutandoci con la nostra spatolina fatto ciò andiamo a livellare il tutto ora copriamo delicatamente e lasciamo il tutto in frigo per 2-3 ore e dopo 3 ore di riposo in frigo non ci rimane altro che togliere la nostra teglia poi piano piano eliminare anche l'acetato ed ecco come è venuta la nostra torta dopo aver tolto l'acetato per la decorazione abbiamo deciso di creare uno ying da 18 cm che andiamo ad adagiare sulla nostra torta la restante parte la andiamo a coprire con il cacao amaro in modo che ricrei l'effetto ying e yang ora andiamo ad eliminare il nostro ying e guardate com'è venuta bene la nostra torta ragazzi ma guardate che meraviglia di semi freddo con mousse al caffè che ci è venuto ragazzi bene ragazzi ora siamo arrivati a mio momento preferito sia l'assaggio e adesso ci gustiamo questa meraviglia di un semi freddo al caffè mamma mia ragazzi che buona che è questa torta veramente è scioglievole e perfetta la mousse al caffè veramente non è molto invadente però quel sapore veramente buono si sente la perfezione poi c'è questa base croccante con i biscotti lotus che dà un leggero retrogusto di caramello e completa il tutto insomma ragazzi è veramente una torta meravigliosa assolutamente da provare ok ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella